Un attacco furibondo. Il presidente del Napoli ha preso di mira l'assessore al turismo Michele Dallapiccola e pensare che l'occasione era un'iniziativa della provincia per promuovere una vacanza sulla neve a prezzi scontati per i tifosi partenopei. Franco Pistolato. Questa volta nelle esternazioni di Aurelio De Laurenti, presidente del calcio Napoli, è finito niente meno che l'assessore provinciale al turismo Michele Dallapiccola, che pure da anni finanzia il ritiro partenopeo in Val di Sole. Alla presentazione del Natale azzurro a Napoli con l'APT, l'imprenditore dello spettacolo, riferendosi a Dallapiccola, ha usato termini offensivi, roba da manicomio, ho cancellato pure il suo nome, a casa mia non gli farei fare nemmeno l'usciere. Dallapiccola non commenta. Il presidente della giunta, Ugo Rossi, è laconico. Non rispettiamo contratti e regole, dagli altri ci aspettiamo lo stesso. Sentirò De Laurentiis per capire. Difficile comprendere perché è tanto astio contro Dallapiccola, reo forse di non scucire altri soldi per il Napoli a Di Maro. Di certo c'è che oggi Napoli ha perso con la Roma, la vendetta degli dei.